La parola del Signore che ci viene donata in questa tredicesima domenica del tempo ordinario ha al suo centro la storia di due donne, una malata, perdite di sangue da 12 anni, cure che non hanno avuto nessun tipo di esito, ha dilapidato addirittura i suoi averi per cercare una soluzione e dall'altra una ragazzina di 12 anni che sembra dir del padre che sia morta e che poi Gesù dirà invece stava solo dormendo. Due donne accomunate da una grave situazione della loro esistenza, una che la sta conducendo non soltanto a una morte fisica ma in qualche modo anche sociale, quasi religiosa anche perché in fondo chi aveva problemi di quel genere era destinata a essere isolata anche, a non avere la possibilità di avere relazioni ordinarie con le persone perché chi entrava in contatto con una donna del genere era considerato impuro. E questa donna cerca invece con un coraggio notevole di farsi largo fra la folla, quasi sgomitando, si direbbe, per toccare almeno il lembo del mantello di questo Gesù che tutti sentono essere il portatore di qualcosa di nuovo. Anche lei cercava qualcosa di nuovo ed importante per la sua vita, decisivo, laddove nessuno aveva potuto fare qualcosa per lei. E Gesù si accorge in quella confusione, in quel momento caotico in cui sta vivendo, sente questo tocco, sente questa vicinanza di questa donna che non cercava certamente soltanto un maestro o una persona dalla grande dottrina, ma cercava soprattutto un contatto che portasse vita, che portasse in lei quella guarigione che gli permettesse di ritornare a riprendere il suo cammino con dignità. Gesù sente questo bisogno e sente questo tocco e vuole, vuole conoscere, vuole vedere, vuole incontrare il volto di questa donna a cui alla fine dice vai, la invita ad andare, la incoraggia, salvata dalla sua fede, guarita dalla sua fede, adesso deve andare, deve riprendere il suo cammino, ridonata alla sua dignità. Lo stesso anche per la fanciulla di 12 anni, anche lei è creduta morta. Gesù anche qui si avvicina a questa ragazzina e vuole che vadano via tutti, c'è confusione intorno a lei, disperazione, tutti ormai a decretare una vita stroncata. Eppure Gesù caccia via tutti e dice, peraltro suscitandogli l'ilarità, che questa bambina stava dormendo. In verità lui la invita a tornare ad alzarsi e a riprendere il suo cammino. A lei bisogna dare da mangiare, perché? Perché la sua è una vita che deve riprendere con pienezza e normalità. Ecco in fondo allora ci troviamo di fronte a una parola in cui il Signore è protagonista, perché nella vita di queste due donne davvero interviene con la sua forza, con la sua virtù, e soprattutto per ridare a queste due donne la forza di rimettersi in piedi e di riprendere il proprio cammino. Certo allora per noi diventa un motivo di grande sollievo e di grande speranza. Abbiamo bisogno del Signore, abbiamo bisogno che Lui si chini su di noi, abbiamo bisogno che Lui tocchi la nostra vita o che noi possiamo toccarlo perché la nostra vita abbia qualcosa di nuovo, qualcosa che sani, che guarisca le nostre ferite. Tutti abbiamo ferite e tutti abbiamo forme anche di morte o di sonno che ci possono in qualche modo privare della dignità della nostra vita e di quello che il Signore desidera realizziamo nella nostra vita. Abbiamo bisogno di qualcuno che abbia fiducia in noi, si chini su di noi, ci prenda per mano e ci rimetta in piedi e ci faccia camminare. Abbiamo bisogno di qualcuno che in qualche modo freni quel flusso di vita che se ne va, magari inutilmente, e che invece torni a darci il senso pieno del nostro cammino. Ecco, Gesù è davvero per noi la speranza che per tutte le volte in cui ci sentiamo morti o che sentiamo in qualche modo la vita andarsene, quasi inutilmente, per tutte le volte in cui, forse anche in una forma di sonno, noi viviamo quasi ripiegati su noi stessi, ecco che l'essere vicini al Signore torna ad essere la nostra liberazione, la nostra salvezza, il nostro tornare in piedi o, se volete, il nostro risorgere a vita nuova.